Grazie a tutti per questo mio nuovo video di Sonato Si Oggi siamo tornati su Brawl Stars Ma soprattutto Siamo qui Perché oggi È l'ultimo giorno Di questo meraviglioso pass Ebbene si Mancano 21 ore e 41 minuti Alla fine di questo pass Di questa Diciottesima stagione di pass Che ci ha regalato molte cose Tra cui questi Carissimi amici Bling E anche molti bling devo dire Comunque Tralasciamo questo Oggi ultime due missioni Che sono Causa 60.000 punti d'anno Ok E causa 60.000 punti d'anno In sopravvivenza in due Praticamente due missioni Che vanno in coppia Perfetto Ovviamente Già che ci siamo Useremo Iris Perché Ovviamente È Un brawler Che devo ancora portare Al grado 15 Quindi già che ci siamo Lo porteremo avanti Ma soprattutto Sbloccheremo gli ultimi Star drop Di questa stagione Non che ne avessimo Sbloccati tanti In questa stagione Perché L'agionamento è stato fatto Proprio All'ultimo E quindi Non è che ci sia Chissà quanto da Oh Grande Stalmente mi invia Con dei compagni Decenti Vabbè Comunque Quindi Obiettivo di oggi È un grande Sto qui No 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 Ok Problema risolto A quanto pare Abbiamo vinto La Partita Con C'è La partita di prima E niente Apriamo il primo Star drop Ovviamente Raro C'era Tanto da aspettarsi 69 monete Dai E quindi Adesso C'è la missione Ah Non ho causato Danni Ok Bene Eh Vabbè Vabbè Continuiamo Sperando Che Questo Quel piccolo Problemuccio Non torni Più No Vorrei Evitare Di Come Ma come No Scusatemi Come ho fatto esattamente A prendermi Non ho capito Non ho capito What Eh Ok Va bene Non ho capito Ma Ok Magico Veramente Magico Vabbè Ehm Continuiamo Cos'è che devo fare Se non Continuare Spero Che è lui Che stia No 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 Invece no Sono io Sono io Che diverso Dai Viva Ok No Niente Scherzavo 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 No 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 Puoi anche Startene a casa tua Eh Ma Startene anche a casa tua Che ne dici tu Io Direi che va bene Ognuno si sta a casa propria Eh Che ne dici Mennaggia Sì Però se vai a morire dentro lì non è che ha molto senso Mettiamola così E stai fermo A quanto pare Mi piace muoversi Però l'ho ripreso Quindi ci godo Perché non ha Ah Ah L'ho preso completamente Maledetto Famone Allora C'è stato un attimino di pausa Vai approfittare No vabbè ma Ma Dovevi approfittarne Vabbè io son morto Come ha fatto Dovevo approfittarne Aveva due di vita Ma Ma dai Aveva pochissima vita Doveva approfittarne In quel momento Ah Vabbè Ah La vedo difficile Questa missione Però Andiamo avanti Beh Come al solito Il video sarà Comunque Io che Finisco le missioni Prendo gli start drop E basta Cioè Penso che sarà tutto qui Il video Non credo che durerà Tantissimo Teoricamente Cioè Fra tutte e due Popomè ha preso Che poi l'Edgar Era davanti a me Va bene Perché ho sbagliato Di qualche Millimetro Ma siamo seri? Ma dai Ma dai Che poi Come ha fatto A morire il mio compagno Dov'era? Non c'è nessuno Qua sopra Come ha fatto? Sì Vabbè Cos'è sta roba? Mi sono beccato il compagno Fk Sì Mi sa tantissimo Che bello Che bello Cosa gli vai addosso? Vattene via Vattene via Vattene via Vattene via E mo? E mo Sono fottuto Ovvio Ovvio Cosa devo fare Se mi becco il maledetto Che rimane Fk Ovvio Mamma mia Che urto Certo che anche io Decido di fare Una missione Dove devo causare danni Con un brawler Che non sono capace Di utilizzare E che comunque Non è che faccia Questi grandissimi danni Cioè Vabbè Mi sono anche beccato Una squadra avversaria Perfetto Andate a morire Ammazzati Non so se dire Ulti Sprecato Oppure no Il mio compagno Dov'è in tutto ciò? Non lo so Se magari Mi davi una mano Un attimo prima Ok Prendere i power up Ma Se io mi becco Una squadra contro Magari Sarebbe anche utile Darmi un piccolo aiutino Che ne dici tu? Non usarmi la ultima Inutilmente Che t'ammazzo Mi sa che molti Non hanno capito Quella ulti di Chester Eppure è semplice Crea una zona Di un certo raggio Intorno a te Che semplicemente Fa quella roba lì Ti rallenta E fa cadere Una pioggia di Robi Perché non so Perché non so Guarda Maledetto Perfetto Perfetto Dai Vieni qua Ok Mi è bastato un colpo Ok Ah Missioni completate Wow Vai Raro 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 Ovvio Raro Mamma mia Cosa E a questo punto Vinciamo le ultime Quattro battaglie A sto punto Che cosa devo fare Mi manca poco Per riuscire a Ottenere L'ultimo star drop Di L'ultimo star drop di Codesto Passa A sto punto Aspettiamo Aspettiamo poi Ok Non l'avevo Non avevo capito Che c'era anche La bibi Da qualche parte Aia Allora Ho capito Cosa volevo fare Cosa voleva fare Lo stu Il fatto è che Eravamo troppo pochi Cioè Se c'era magari Anche il mortis Ci sarebbe Ce l'avremmo potuta fare Pensavo di avere la palla Ma non ce l'avevo Interessante Mannaggia E vabbè Fa niente Non ho capito Come Prego bro Si poi Non lo so Volete anche Non so Questo Non me l'aspettavo Oh Il mortis Ha fatto una strage Comunque Non vorrei dire Ma Grande mortis Oh E vedi Questa volta Ha funzionato Scusami Non l'ho fatto in tempo Beh L'importante è che il muro Gliel'abbia rotto Perché così Grazie a quello Magari Abbiamo più Possibilità Di far gol Penso Chi l'ha uccisa? Io Ah Ma Ma il grey Non era morto Perché ero convinto Che il grey Fosse morto? Vabbè Oh Non ho neanche perso Coppe Mi piace questa cosa La vedo molto difficile Questa scalata E che se sono semplicemente Quattro partite da vincere Non è che Sia Chissà che cosa Mannaggia Eh vabbè Ah che bello Quando si ammassano Così tutti insieme Ma il corvo Non aveva idea Di dove fosse Mannaggia il corvo Ovviamente Vabbè Ci facciamo già Far gol così All'inizio Tanto che Se ne frega Intanto Lo recupereremo Non ci casco Un'altra volta Maledetto Ma esattamente Che giro sto facendo No Scusami bro Scusami bro Certo che però L'energetica Cioè Molto intelligente Devo dire Cosa salti Una roba Che ti rende invisibile In un cespuglio Molto utile Devo dire Beh Però Bravo dai Non tu Ok Man mano Stiamo anche Facendo la scalata E fra un po' Stiamo anche per raggiungere Le 19.900 coppe Wow Stiamo per arrivare A 20.000 E il vero Che da qua in poi Le ricompenze Sono tutte uguali Praticamente Cambiano magari Le porz Le porzioni Certo Cos'è Pasta Una porzione di pasta Otra porzione di pasta Vabbè Lasciamo stare In realtà Sarebbe Vabbè Lasciamo stare Ma questo Hank Così aggressivo Come mai Ho capito Ok Fatto fuori Quello Sembrava Molto cattivo Devo dire Tranquillo Se non ti metti Magari davanti Al drone Io capisco Dov'è Ti metti Come faccio A capire Dov'è Se tu Ti ci metti Davanti Era abbastanza Palese No Beh però Se facevo Il gol Più Più Fantastico Della storia Dei gol Per quello Che ho fatto Io ovviamente Che non è che Ne abbia fatti Tantissimi O comunque Veramente Cattivissimo Sto Leon Cosa Penso di fare Esattamente No 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 Eh vabbè Venom Ho il piacere Di giocare Contro Venom Wow Mi piace Come cosa Ok Niente Vabbè Ma questo Gray Quando ha Intenzione Di usarlo Lo deve portare Così Per dire Eh Non volevo Ripassargelo È stato Un errore Di sistema Vai bro Che te passo La palla Ancora Sto maledetto Che è in mezzo Toti Me l'hai parata Ora no Sto energetica Che era sempre In mezzo Mau Ma pensa a te Non lo so Va là Vabbè Ok Macy Mr.P E Non mi ricordo Il suo nome Ehm Aspetta Piccolo lapsus mentale Perché sta roba Willow Stavo pensando Alla sua skin Axolot Stavo per dire Chi si chiamava Axolot Giusto un po' Sbagliato Ma è immortale Il Mr.P Non lo so No dai Piper Vai Vai Piper Sei tutti Noi Che roba L'avevo fatto No 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 Volevo usarla ulti Per far gol Ma Sfortunatamente Si era messo davanti Quindi anche volendo Non la potevo utilizzare Ok Non mi ha avvelenato A me Vabbè Sono in indoledini In merda Ancora Ma quanti d'anni fa Cioè Io che ce l'ho All'undici Scusami Quanto danno fa Adesso Non hanno fatto Dei bilanciamenti Su di lei Però Almeno da quel Che mi ricordo Io Poi non ne ho idea Mi ha Parato la ulti Facciamo Dei danni Così Non volevo Proprio Far questa cosa Qui Però Vabbè Anche se salti Non serve a nulla Userà sicuramente La ulti Per fare gol Così almeno La palla è più veloce E riuscirà a farlo Prima Vabbè Devo starmi Ne zitto Ogni tanto Però Stavo per dire All'inizio Stavo per dire Secondo me Questa la vinciamo Tac Come al solito Che viene Incontro Il mio Caro amico Destino O sfiga O non vale Camperà Così sulla palla Oh Camperà la palla Sto qua Perché non si vede più Da che parte Ok Ho pensato male E invece no Ho pensato bene Scherzavo Ho pensato bene Mannaggia Ma il mio compagno Si chiama Brust Cioè il mio avversario Si chiama Brustars Seriamente Ma però Se qualcuno Venesse davanti Insieme a me Magari Sai Potremmo far gol Un po' più facilmente E invece no A quanto pare Tutti voglia di starsene Comodi Comodi Di dietro Io più che altro Ho paura di stecca Perché stecca è Molto Ma molto Noiosa Oh Mamma mia Mamma mia Mamma mia Sinceramente però Me la ricordavo Più veloce La Ah sì sì Stai pure via Dalla porta No Non era Abbastanza potente Eh vabbè Tanto basta Semplicemente Che non Facciano gol Poi il resto Tanto per il resto Abbiamo già vinto Ma non mi interessa Far gol Sì Sai cosa non mi Raffegame di far gol Ma mi interessa Di non Farmi far gol Cosa che a quanto pare I miei compagni Invece Non interessa Sono felice Non Quanto Odio le persone Mamma mia I randomini Quanto fanno Schifo To Mamma mia Volevate Volevate perdere Non me ne frega Io non perdo Per voi Ma pensa Testi qua Ok Abbiamo l'ultima Partita da fare Si spera Per ottenere L'ultimo Star drop Fantastico Fantasmagorico Ci vediamo Direttamente Credo Quando Avrò Sbloccato Il Suddettosi Star drop Ok Molto bene Partita a venta È stata anche abbastanza Veloce Devo dire Ultimo Star drop Raro Raro E vabbè Oh Un raddoppio Deggetto Da 124 Per il prossimo Pass Sarà Perfetto Direi che il video Si può concludere Qui Spero che il video Vi sia piaciuto E ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti